Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, Re e Signore della Chiesa, rinnova la Tua presenza, la mia adesione incondizionata al Tuo Vicario sulla Terra, il Papa. In Lui ci hai voluto mostrare il cammino sicuro e certo che dobbiamo seguire in mezzo al disorientamento, all'inquietudine e all'esgomento. Credo fermamente che per mezzo Suo Tu ci governi, istruisci e santifichi, e sotto il Suo vincastro formiamo la vera Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Concedimi la grazia di amare, di vivere e di diffondere come Figlio fedele i Suoi insegnamenti. Custodisci la Sua vita, illumina la Sua intelligenza, fortifica il Suo Spirito, difendilo dalle calunnie e dalla malvagità. Placa i venti erosivi dell'infedeltà e della disobbedienza, e concedici che, attorno a Lui, la Tua Chiesa, si conservi unita, ferma nel credere e nell'operare, e sia così lo strumento della Tua redenzione. Così sia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.